Come siamo arrivati per Strahigna? Abbiamo cercato un difensore con un bel profilo, non mi sembra male profilo. D'anno scorso abbiamo preso tanti gol, allora abbiamo cercato di rinforzare la difesa. Poi con Strahigna era il profilo perfetto dove squadra di scouting e tutti quanti con Jeff Moncada come pilota ha portato il nome Strahigna a tutti quanti. È un giocatore aggressivo, un giocatore che gioca con gamba sinistra, anche usa destra. In nostra difesa c'è solo Teo Hernandez che usa più gamba sinistra di destra. Poi in suo gioco è intenso, non ha paura, ha atteggiamento giusto, ha tante immagini di crescere ancora. Poi esperienze di Champions League. Come ci diceva prima, sono qui per dargli il 200% di me stesso. Grazie. Dunque, è vero, confermo. Sono stato io a scegliere il numero 31. Era il numero, peraltro, che avevo l'onore di indossare fisicamente anche a Salzburgo in Austria, quando appunto mi sono reso conto che Stam portava quel numero. La sensazione è stata ancora più profonda, ancora più bella, perché per me Stam è veramente un eroe, veramente un eroe iconico per me. Per cui, sì, è vero, le persone tendono a fare un confronto tra Stam e me. Penso che abbiamo forse gli stessi capelli, ma magari a parte i capelli anche allo stesso tipo di gioco, che ripeto è all'insegna dell'attacco. Insomma, siamo aggressivi. Abbiamo fatto veramente già, come dire, tante cose simili, come dire, sul campo, se proprio volete confrontarmi a lui. Data la tua esperienza, cosa pensi di poter portare in una partita così importante per i tifosi, soprattutto dopo le ultime partite, gli ultimi derby che non sono andati benissimo? Ha ragione, confermo. Allora, il derby di Belgrado l'ho giocato, appunto, con Restel Partisan. Dunque, sono stato fortunato in quel momento, perché era veramente giovanissimo, ho fatto quel derby che avevo appunto 17 anni e lì ho veramente imparato subito a capire cosa vuol dire gestire la pressione, questo fin dall'inizio del gioco e fino a quell'età, quindi veramente da molto giovane. Quindi è una cosa che ho imparato e che penso sia positiva. Questo ha generato dei risultati per me positivi, appunto, le derby, però anche queste mie, come dire, carte da giocare le utilizzerò per i derby qui a Milano.